Oh mio Dio! Cos'è tutto questo sangue? Non ho mai avuto un ciclo simile. Cosa mi sta succedendo? 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 Non capisco tutto quel sangue. Non mi era mai successo. Meglio che nessuno lo sappia. Cosa mi sta succedendo? 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 Non, Irene, non dica così. La prego non è possibile. Conoscco i ragazzi. Cosa mi sta succedendo? Cosa mi sta succedendo? Cosa mi sta succedendo? Cosa mi sta succedendo? Cosa. Aspetto, le tengo al sicuro in camera mia. Mi deve perdonare, padre. Devo lasciarla di corsa. Sono venuti a prendermi. Buona giornata. Anche a lei, Irene. Ok. L'apo coinvolto nella morte di Matt. Mia madre sta perdendo di nuovo la testa. Come si può anche solo immaginare una stupidaggine simile. E Don Attilio è un grande amico, è vero. Ma che mania è. Le carte sono solo un gioco e soprattutto sono mie. Perché mai me le hanno prese? ...contro i francesi per i tanti stupri compiuti dalle truppe degli invasori anglo-americani. Nuova ordinanza per la sicurezza dei cittadini. A partire da questo momento è proibito a chiunque... ...e camminare per le strade della città di San Casciano. Tutte le finestre. Generale Eric K. Nuove regole sul coprifuoco e il comportamento delle donne. Comando tedesco di San Vincenzo Atturri. Numero di telefono 11800. ... ... ... Una pellicola a 25 iso. Quando c'è il sole a picco è perfetta. ... 25 iso. ... 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